Allora, eccoci qui, Amazon Fire TV Stick 4K Max LA, o meglio, questo è un televisore di Nokia del quale non vi ho detto nulla, ma l'interfaccia è quella del nuovo dongle di Amazon, nuovo nel nome, ma la sostanza, beh, non cambia tantissimo. Quindi non ci perdiamo troppo in chiacchiere, vediamo come funziona, cosa c'è di nuovo rispetto al modello Fire TV Stick 4K non Max, e poi proverò anche a rispondere alla più classica delle domande, ovvero, quale Fire TV Stick dovrei comprare? Allora, ecco la home della nostra Fire TV Stick 4K Max, che poi è comune anche alle altre Fire TV Stick, brevemente davvero perché non l'avesse mai vista, in alto abbiamo un carosello di contenuti che ormai è praticamente presente ovunque, anche su Apple TV o su Google TV, Android TV, che dir si voglia, e niente, è un carosello in questo caso animato, nel senso che scorre tra uno all'altro, ma potrebbe essere animato, nel senso che questi potrebbero proprio essere dei video con audio che si riproducono un po' uno dopo l'altro, io ho tolto questa opzione dalle impostazioni perché non mi piaceva. Qua a sinistra abbiamo la possibilità di cambiare utente, benissimo che ci sia subito questa cosa, a me personalmente piace. Scorrendo a destra invece abbiamo la ricerca, ricerca che ci suggerisce alcune categorie, graficamente non mi fanno impazzire, non si sa perché le parti delle consigliate sarebbero grigie se non nere rispetto a queste più colorate, ma possiamo anche utilizzare la ricerca tramite Alexa, se per esempio, o tramite testo come in questo caso, mentre invece premendo sul telecomando il tasto di Alexa potete dire trovami tutti i film degli Avengers e lui vi trova tutto quello che ha appunto sugli Avengers, ci cliccate sopra e potete guardarlo, vedete, su Disney+, noleggiarlo, acquistarlo e via dicendo a seconda di quello che è il servizio di streaming che vi offre appunto quel contenuto che voi avete ricercato e poi sotto ci sono altri risultati simili, quindi la ricerca tutto sommato è sempre stato uno dei suoi punti forti e continua ad esserlo un po' meno secondo me questa divisione qui in categorie. Abbiamo poi una serie di applicazioni, c'è l'App Store che ancora oggi inspiegabilmente non ha una funzione di ricerca, questa cosa mi manda veramente nei pazzi perché ci sono tantissime applicazioni soprattutto per quanto riguarda i servizi di streaming, vedete, Now, Disney+, DAZN, Rayplay, Discovery, Infinity, Team Vision, Apple TV, Twitch, c'è veramente di tutto, ma li dovete trovare da voi in questa maniera oppure andando qua in tutte le categorie e cercate quello che volete. È comunque estremamente dispersivo per trovare per esempio uno speed test, sono dovuto andare qua in utility e per fortuna lui li aveva configurati come utility, ma altrimenti se cercate qualcosa di un pochino più particolare non è detto che lo troviate. Per quanto riguarda il discorso videoludico siamo su cose molto basilari, vedete anche qui il vecchio Asphalt 8, Crossy Road, esattamente come su Google TV o Android TV. La differenza è che sulla piattaforma di Google c'è Stadia e quindi c'è il gioco in streaming, c'è anche GeForce Now, quindi vi apre di più le porte ad un mondo ludico che qui comunque è limitato, lo vedete, ha dei titolini per carità bellissimi come Bomb Squad, ma comunque graficamente di fascia bassa e soprattutto del passato perché di moderno c'è veramente ben poco. Andiamo comunque ancora più avanti qua, vi faccio vedere che possiamo andare a gestire poi tutte le app che abbiamo nella nostra libreria, ovvero quelle installate su questa tv e anche quelle non installate che magari abbiamo messo in passato e infine qua all'estrema destra abbiamo le nostre impostazioni che sono tutte raggiungibili qua in basso con l'eventuale presenza di notifiche, nel caso in questo caso lo vedete di applicazioni installate o anche altre segnalazioni. Torniamo rapidamente poi proprio alla home per farvi vedere che qua in basso abbiamo i contenuti sponsorizzati che lo vedete e probabilmente lo sentite sono animati, in questo caso non vale l'impostazione che io avevo messo qua di bloccare video e audio perché se il contenuto sponsorizzato ha video e audio, non c'è sempre, li sentirete male secondo me questa cosa, ma vabbè. Riga di applicazioni, riga di consigliate e poi una sfilza di Prime, 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 Netflix consiglia, Prime, Prime, iscriviti a Prime Video Channel, Prime, applicazioni e giochi in primo piano, Prime, applicazioni consigliate per te, Prime, 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 sta diventando un po' uno scioglilingua faticoso. Tutto ciò per ribadire che è una home ovviamente Prime centrica, ovvero Amazon centrica, con fin troppe righe se lo chiedete a me, molte altre soluzioni sia quella di Apple che quella di Google sono meno ridondanti e meno lunghe, alla fine non sapete nemmeno a che punto siete qui, a metà, all'inizio, in cima, boh, vabbè. Insomma, fatto sta che probabilmente non arriverete mai così in basso, dopo un po' vi accorgerete che è tutto un Prime, 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 Prime e molto probabilmente avrete già trovato quello che volete o lo avrete ricercato appunto tramite la ricerca. Ma questo, bene o male, non è una caratteristica peculiare della Fire TV Stick 4K Max, quindi cosa c'è di nuovo? Allora, intanto un nuovo processore, Mediatek MT8696 a 1,8 GHz, 2 GB di RAM anziché 1,5, ma sempre 8 GB di memoria interna. Dopo aver messo un numero non troppo di elevato di applicazioni, vedete che ho ancora 5,34 GB disponibili, lo spazio interno è gestito meglio rispetto a un Chromecast con Google TV che occupa molto più spazio già di suo, quindi effettivamente, nonostante siano solo 8 i GB disponibili, con 5,34 ancora, nonostante abbia installato appunto diverse applicazioni di streaming, è difficile che possiate riempirlo in tempi brevi. Dicevo comunque del processore, che è la novità importante che dona senz'altro all'interfaccia maggiore fluidità. Ci si sposta più rapidamente tra un'applicazione e l'altra, le animazioni di ingrandimento o di ritorno alla home sono più fluide, l'apertura è tutto un po' più rapido e quel un po' di più di RAM che avete rispetto appunto al passato vi consente comunque di tenere in memoria più applicazioni e magari appunto di riaprirle più rapidamente perché sono rimaste in RAM e non vanno riaperte da zero. Novità anche per quanto riguarda la Wi-Fi, in questo caso abbiamo il supporto Wi-Fi 6, a parità è un po' più veloce, devo dire, rispetto alla Fire TV Stick 4K precedente, in ogni caso sia chiaro che se volete per lo più vedere contenuti in streaming non avete bisogno di chissà che velocità folli. Una Wi-Fi 6 può essere magari utile in una connessione locale ad un eventuale NAS con contenuti che probabilmente non saranno nemmeno legali ma che saranno anche volendo ad elevatissimo bitrate e che quindi richiederanno maggiori velocità. E sempre a proposito di supporto, diciamo, un po' al futuro, è importante evidenziare il fatto che adesso c'è la decodifica AV1 hardware che ora come ora non viene praticamente usata da nessuno ma che in un'ottica di supporto futuro è bene che ci sia perché dona maggiore longevità a questa versione 4K Max rispetto alla 4K normale. Abbiamo poi il supporto Dolby Vision, HDR10 anche e soprattutto c'è l'audio Dolby Atmos se supportato anche su Netflix cosa che in passato per esempio non valeva. Rimane la solita porta micro USB per l'alimentatore è un pochino un peccato che non sia stata aggiornata da un punto di vista hardware a quel punto probabilmente la differenza di prezzo tra la versione Max e la versione non Max sarebbe stata senz'altro di più. Diciamo che vi preclude la facilità di collegare per esempio degli hub esterni ad elevata banda o per esempio di poter collegare una gigabit Ethernet visto che la micro USB è limitata ai 100 megabit però insomma sono cose anche un po' relative che probabilmente nella maggior parte dei casi e la maggior parte degli utenti nemmeno noteranno anche perché si tratta di un dongle sul retro del televisore non di un boxettino quindi si suppone che lo mettiate lì dietro e poi praticamente vi dimentichiate di averlo. Non c'è Chromecast, lo sottolineo perché ogni tanto qualcuno me lo chiede c'è la possibilità di duplicare lo schermo dello smartphone anche se qualche problemino ogni tanto me lo ha dato sia sul Pixel che su altri smartphone non so se sia stato appunto un caso sfortunato ma non è impeccabile in ogni caso il mirroring dello smartphone non vi vale per trasmettere contenuti perché non è un mirroring così affidabile da poter mandare un filmato in 4K e comunque tutte le applicazioni di streaming che volete sono disponibili qui quindi è inutile stare a passare per soluzioni alternative può essere un modo magari per vedere al volo delle foto che aveste sullo smartphone e proiettarle sul televisore ma sostanzialmente niente di più. Allora questo è praticamente quello che c'è da sapere sulla Fire TV Stick 4K Max per qualche altro dettaglio vi rimando come sempre alla recensione che ho pubblicato su smartwatch.it il link è qua sotto e già che abbassate lo sguardo magari fate un like iscrivetevi al canale, condividete il video insomma supportateci in qualche modo perché non ho ancora finito devo rispondere alla domanda che mi ero posto all'inizio ovvero quale tra i tanti modelli di Amazon di dongle per la TV è più conveniente. Allora la Fire TV Stick 4K Max costa 64,99 euro contro tutti i prezzi di listina ovviamente la Fire TV Stick 4K, questo è il modello precedente col telecomando vecchio ma insomma ora viene venduta quella nuova 59,99 euro per 5 euro di differenza se doveste comprare l'ex novo tutta la vita lei 5 euro tutto sommato li vale ma la Fire TV Stick 4K spesso si trova in offerta proprio su Amazon a 39 euro 39,99 per 25 euro di differenza beh passa in vantaggio lei perché sì questa è migliore ma non così tanto da giustificare una simile differenza di prezzo attenzione però se andiamo sempre sui prezzi di listino 64,99 beh qui c'è anche un outsider Croncast con Google TV 69,99 5 euro in più 5 euro in più per avere però molto più cloud gaming e il supporto a Croncast oltre ad un'interfaccia che in un certo senso un pochino preferisco un pochino più Android centrica se volete qui è più Amazon centrica tutti prezzi di listino al netto di possibili offerte che possano rimescolare ovviamente le carte in tavola attenzione però se avete un televisore full HD o se per qualche motivo la maggior parte dei contenuti che guardate fossero soltanto full HD beh allora vale la pena tenere in considerazione lei la Fire TV Stick Lite che in questo momento guardato costa 19,99 euro praticamente ti la tirano dietro il listino se non mi sbaglio sarebbe di 29,99 fatto sta che sono comunque pochissimi nell'incertezza fra la Fire TV Stick base e la Lite prendete la Lite perché tanto il telecomando con i controlli di TV che ha la versione non Lite non è che valga la differenza risparmiate al massimo siete lì per risparmiare in fondo risparmiate al massimo e con questa vivrete felici non avrete tutta questa fluidità non avete 4K eccetera eccetera però avete il meglio per rivitalizzare probabilmente un vecchio televisore tutto lo ribadisco al netto di possibili offerte spero di essere stato abbastanza chiaro se così non fosse fatemi le domande che volete nello spazio dei commenti da parte mia come sempre un saluto e alla prossima